Difendere l'ospedale di Sernia e scongiurare tagli che possano mettere a rischio il diritto alla salute dei cittadini in un territorio già le prese con mille criticità. Il Consiglio Comunale di Palazzo San Francesco scende in campo coinvolgendo anche le altre amministrazioni della provincia perché unendo le forze sarà possibile far sentire la voce del territorio. E' stato questo il tema al centro della seduta dell'assise civica. All'unanimità è stato approvato un documento con il quale, tra l'altro, il Comune nella sua azione vuol coinvolgere tutte le amministrazioni esistenti sul territorio, a cominciare dalla provincia. Manderemo il deliberato, ha affermato il sindaco Giacomo D'Apollonio, proponendo una mozione di analogo provvedimento a tutti i comuni della provincia. Altra iniziativa è quella di proporre un incontro monotematico sull'argomento, con particolare riferimento al redigendo POS. L'idea è quella di invitare per un confronto i commissari alla sanità, insieme ai vertici della regione e alla ASREM. Diversi gli interventi che si sono susseguiti da parte dei consiglieri, che pur condividendo il documento hanno evidenziato la necessità di mettere in campo azioni più incisive per tutelare il diritto alla salute. Diversi gli aspetti esaminati nel corso della riunione. Dobbiamo renderci conto, ha evidenziato il consigliere di Luozzo, che il vero problema è rappresentato dalla carenza dei medici. La regione Lazio ha avuto la possibilità di chiamare medici in pensione ed affidarsi alle società interinali per reperire personale. Se dobbiamo risolvere il problema, dobbiamo farlo trovando personale. Diversa la posizione di Rita Di Pilla. La carenza di medici, ha affermato la dottoressa, è un problema reale, ma non credo sia questa la causa della chiusura delle parti. Mancano le risorse ed è la conseguenza della spesa pubblica che ha raggiunto il suo massimo. La carenza di medici è conseguenziale alla mancanza di risorse. L'unica via, ha ribadito infine, è l'opposizione al decreto Balduzzi. Poi la proposta del consigliere Roberto Di Pasquale, anche presidente facente funzioni della provincia di Sernia, per coinvolgere in un'azione congiunta anche l'amministrazione di Via Berta e degli altri comuni. Perché, ha evidenziato, è necessaria una presa di posizione forte. Iniziativa condivisa anche da Raimondo Fabrizio e da Mino Bottiglieri, che hanno proposto di coinvolgere il presidente della regione, Donato Toma. Il documento iniziale è stato dunque integrato, alla luce delle proposte venute fuori durante l'assemblea, ed ha ottenuto il via libera dei 24 componenti dell'assise presenti in aula.